Modelle Hotel E la bellezza è bellezza e non a canoni Queste donne che vediamo stasera a sfilare Sono quelle che abbiamo visto anche nel lavoro che facciamo da 4 anni Non sono portatrici di handicap, sono portatrici di grazia E la rivoluzione è nelle parole E noi dobbiamo iniziare questa rivoluzione Merda, merda, merda! Innanzitutto bisogna abbattere degli stereotipi Della donna magari seduta davanti alla televisione Con la donna scozzese sulle gambe Vogliamo produrre anche con queste nuove carrozzine di design Un'estensione dell'abito Che non veda più la sedia a rotelle come un accessorio medico Non è integrazione della disabilità, della moda questa Questo è soltanto produrre delle top model in una posizione diversa Ne abbiamo in piedi, ne abbiamo sedute, ne abbiamo senza un braccio o senza una gamba Allora è possibile andare sul sito www.fondazionevertical.org E lì è possibile fare un bonifico con IBAN È possibile fare una donazione online Fatelo perché stiamo cercando di Oltre che di sostenere la ricerca E qui a Milano abbiamo laboratori importanti come quello di Niguarda Sono in nanotecnologie Come quello del San Paolo Hospital Dove lavoriamo con le cellule staminali Del liquido amniotico Siamo portati avanti dei progetti E speriamo siano diventi un'applicazione terapeutica sull'uomo Quindi sosteneteci perché oltre poi Allo scopo fondamentale Rivoluzioniamo culturalmente degli aspetti della società E questo Modelle Rotelle è un format Proprio predisposto per questa rivoluzione Va bene? Allo scopo fondamentale